Ancora importanti successi per l'istituto comprensivo di Gioiosa Marea, ragazzi e ragazze alunni della scuola gioiosana hanno conquistato il primo posto sul podio alle regionali dei campionati studenteschi di atletica leggera. Di ritorno da Roma, protagonisti nei campionati nazionali sono stati premiati per i meritati successi sportivi raccolti in questo ultimo anno scolastico. Grazie ai docenti per l'impegno, grazie ai ragazzi. Lo sport in piccolo rappresenta tutti i valori della scuola, cioè la necessità di impegnarsi per raggiungere mete, mete importanti. La nostra scuola si è confermata al primo posto a livello regionale per quanto riguarda i successi sportivi. Abbiamo vinto tre campionati provinciali, due campionati regionali e siamo riusciti ad ottenere prestazioni veramente importanti a livello nazionale. Per una scuola di provincia è un successo che mi rende fiero e che mi onora perché dirigere una scuola del genere è veramente una grandissima soddisfazione. La premiazione si è svolta nell'ambito di una manifestazione di solidarietà in cui i ragazzi hanno esposto diversi lavori realizzati durante l'anno. Tutto ciò legato anche a questa meravigliosa manifestazione. Vedete quante bellissime opere hanno realizzato i ragazzi nell'ambito di un progetto solidarietà.